Musica 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 Ciao Draco Come va? Tutto bene, hai saputo la novità? No, ancora Vieni a sedere che te la racconto La novità parla del CCRR CCRR Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze Dove e quando si tolge? Si tolge fino ad aprile alla Scuola Mitaglia Ehm... Consiste in tre liste Composte dai ragazzi e da ragazze Che Formulano delle idee per migliorare L'ambito scolastico Ehm... Ma perché ci stanno tirando? Io volterò sicuramente A listo tre, perché delle idee che mi piaceva molto E quali sarebbero più? L'idea è come fare il mercatino dei ragazzi Per ricevere dei soldi Per ricevere i crediti Per come dire... Comprare dei... Comprare delle cose alla scuola utili Oppure fare il TG dei ragazzi e della scuola Oppure come dire... Fare aiutare l'ambiente Cioè pulendo dai rifiuti i parti Ok, io ci sarò sicuramente Sì, ma anche a me mi interessa molto Grazie E tu? Pensi di venire a eleggere la lista free? Venite numerosi, vi aspettiamo! Futuro siamo noi! E tu? E tu? E tu? E tu? Bru待 di attivarti